L'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, tramite il Polo di Specializzazioni Alimenti di Bari, ha analizzato campioni di frutta e verdura prima che vengano portati sulle tavole dei pugliesi e ha riscontrato tracce di pesticidi nel 49% dei casi. Il prodotto più trattato sono le pere, seguono a ruota fragole, cetrioli, pomodori e peperoni, anche l'uva non se la passa bene, considerato che sugli acini sono stati riscontrati i residui di 15 sostanze diverse contemporaneamente, con una presenza di residui sul 90% dei campioni esaminati. E' il risultato di un'indagine sull'uso dei pesticidi in agricoltura presentato nel Salento in occasione dell'avvio della campagna zona non avvelenata, che coinvolge 18 comuni e 28 aziende biologiche. I controlli hanno riguardato gli ambimenti basilari della dieta mediterranea, frutti, ortaggi, vino, olio e cereali. Questi ultimi hanno dimostrato minori concentrazioni di residui di pesticidi, così come l'olio, tutto sommato in buona salute. Pessima la situazione della frutta, che ha ciclo vegetativo più lungo e dunque bisogno di più trattamenti con fitofarmaci. I dati pugliesi sulle contaminazioni risultano in linea con quelli italiani ed europei, ma l'allarme di ARPA è comunque alto perché i residui di fitofarmaci possono persistere negli alimenti ed essere ingeriti dall'uomo.